Accoglieremo, come veniva ricordato, anche il Santo Padre, Papa Francesco, che voglio ringraziare per aver accolto il nostro invito, parlerà ai leader, nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale, la prima volta di un pontefice che partecipava al G7. Perché? Perché tra le molte sfide enormi che noi siamo chiamati ad affrontare c'è anche quella di un'innovazione che per la prima volta nella storia dell'umanità rischia di mettere a repentaglio la centralità dell'uomo. E noi dobbiamo interrogarci su come questo fenomeno si possa governare, cogliendone le opportunità ma limitandone i rischi. Insomma, ci occupiamo di queste cose. Lasciamo, diciamo così, che siano altri a parlare di com'era il mondo 80 anni fa. A noi interessa parlare di come sarà tra 80 anni anche in base a quello che riusciremo a fare oggi. Di questo ci occupiamo ogni giorno. È tornata l'Italia soprattutto in Europa.